Allora al centro di questa edizione dell'Ankul Festival c'è il Giappone e questo proprio in un periodo che vede che vede il Giappone alle prese con un con un momento tragico che effetto ti fa? Questo a me rincresce tanto chiaramente, mi rincresce tanto quello che è successo e soprattutto questa storia degli impianti atomici e l'inquinamento che porta non solo per Giappone ma anche mondialmente è una cosa veramente troppo grave, queste cose non dovrebbero accadere e io penso che non si può mai usare una tecnologia che quando non funziona fa degli danni così grossi e mi rincresce molto però noi li abbiamo già invitati prima del disastro e la musica ci ci sia alla